pronti per il saluto? facciamo tutti il saluto Thomas mettete là vicino ai bimbi che facciamo il saluto va? vedi dove sono tutti i bimbi? mettiti come sono messi loro mettiti là insieme a tutti gli altri bimbi assieme a Serapino, a Davide, a Francesco bravissimi, facciamo il saluto facciamo tutti il saluto piedi uniti vabbè lascialo stare pronti? tutti dritti saluto ehi correre via bravo Thomas, attenzione ai bimbi bravo Thomas, correre, correre correre tutti, correre tutti corsa laterale corsa laterale si bravo hai ginnastica bimbi ginnastica bimbi corsa laterale bravo, bravo Thomas scusa giurale scusse 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 una mano al paule bravo Thomas forza Francesco anche tu, anche tu, forza riposati un po' con papà, riposati il braccio, il braccio bravo bravo Thomas stop camminare niente, niente forza Thomas camminare come stanno camminando loro bravo, così bravo bravo bravo, bravo papà forza senza giocare bravo 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 Grazie a tutti